crazy love television crazy love television radio punto zero live e in questo appuntamento noi dobbiamo dare qualche consiglio per far risparmiare un po' di soldini vittorio perché si avvicinano le festività natalizie perché c'è la crisi e noi diamo i consigli giusti ci rivolgiamo soprattutto alle donne ci troviamo da splash in via aldomoro 43 pompei perché perché abbiamo detto prima è un periodo un po' particolare allora noi vi diamo il consiglio per trovare la qualità e la convenienza voi direte cosa tratta splash ve lo facciamo vedere con le nostre immagini voglio restare tutto il giorno in una vasca con l'acqua calda che mi coccola la testa un piede fuori che si infreddolisce appena uscire solo quando è pronta già la cena mangiare e bere sempre solo a dismisura senza dover cambiare buco alla cintura e poi domani non andrò neanche al lavoro e anche avvertirò perché il silenzio è d'oro tornerò con gli amici davanti in scuola ma senza entrare solo fuori a far la ola non ci saranno ripetenti tutto e basta staremo tutti insieme nella stessa vasca così grande che ormai è una piscina staremo a mollo dalla sera alla mattina così che adesso è troppo pieno e non si può più stare è meglio trasferirci tutti quanti al mare quando fa buio accenderemo un grande fuoco attaccheremo un maxi schermo e dopo inseguimenti e dopo inseguimenti varie 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 lotte faremo tutti un grande bagno a mezzanotte mi bagno mi duffo mi giro e mi rilasso mi bagno 2 e inizia qui lo spasso e mi ripagno, mi ripagno 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 incontriamo anche un po' di amiche che la mattina vengono a fare acquisti qui da Splash a Pompei ciao, il tuo nome? Raffaella, buongiorno a tutti Raffaella, c'è tanta convenienza qui perché noi l'abbiamo detto ma possiamo essere di parte tu vieni a fare la spesa, diciamo così, la mattina trovi convenienza qui da Splash? sì, tantissimo e trovo comunque di tutto quindi vieni sempre qui? sì, sempre, non ho mai cambiato punto vendita perché effettivamente rispetto ad altri negozi c'è tanta convenienza sì, c'è tantissimo e siccome oggi si festeggiano anche 10 anni di attività facciamo anche un augurio agli amici di Splash tantissimi auguri sia alle commesse che ai titolari del punto vendita Splash all'interno del punto vendita non solo le donne ma anche i maschietti un augurio ad Enzo e a tutta l'azienda Splash per i 10 anni di attività un augurio sincero a questa azienda che da sempre il meglio e a Enzo soprattutto che riesce a portare avanti un discorso molto di economia di offerta, come dire, diretta e sono veramente felicissimo per lui dei 10 anni di attività complimenti Enzo e incontriamo finalmente il proprietario di questa location straordinaria più grande che mai Enzo, ciao Enzo ciao ragazzi tutto bene noi ti abbiamo ribattezzato Enzo Splash intanto auguri 10 anni di attività grazie, grazie ragazzi quindi 10 anni di grande convenienza per gli amici che vengono qui a fare acquisti ma per questi 10 anni io so che tu hai abbattuto ancora di più i costi eh sì, perché stiamo crescendo cerchiamo di fare sempre sconto per i clienti che vengono che ci portano soddisfazione di clienti che entrano e poi cerchiamo sempre di crescere un po' l'azienda perché ci dobbiamo far conoscere benissimo da tutti e ci state riuscendo perché oggi come oggi noi lo diciamo c'è crisi e qui questo è un negozio anticrisi anticrisi esatto, questi anticrisi quando vengono qua devono trovare tutto Enzo, volevo farti i miei complimenti per la struttura attività commerciale fornitissima anche per il personale qualificatissimo per le ragazze molto professionali e poi volevo dirti una cosa importantissima una cosa da dire alle persone che ci stanno guardando e che ti hanno fatto gli auguri allora ragazzi io ringrazio a voi che siete qui adesso e che ci stanno facendo questa pubblicità bellissima io spero che la clientela viene sempre qua a Spendere da Splash perché noi siamo numero uno incontriamo adesso da Splash la responsabile vendita che abbiamo conosciuto anche su Radio Punto Zero ciao Deborah ciao buongiorno a tutti intanto anche a te auguri dieci anni di attività cosa proponiamo alla vostra clientela di particolare in questo punto vendita? allora in questo punto vendita per la nostra clientela noi la invitiamo a venire perché abbiamo tutti i prodotti per la casa tutti i prodotti per l'infanzia dato da qualsiasi età grandi, piccoli abbiamo tutto anche per la scuola per i bambini naturalmente per le donne che sono anche un po' vanitose sono tutti gli articoli del make up Vittorio aveva anche lui qualche curiosità quindi gli passo subito il microfono complimenti per la struttura complimenti anche per la professionalità siamo da Splash un negozio fornitissimo qui si può trovare davvero di tutto ovviamente noi ci rivolgiamo alle donne che si occupano della spesa quotidiana ma anche i maschietti cosa diciamo alle persone che hanno rivolto a tutta la vostra famiglia gli auguri per i dieci anni di attività? allora diciamo di tornare qui sicuramente anche i maschietti come dice qualcuno è anche più vanitoso perché abbiamo tutto anche per l'uomo da A alla Z di tornare qui perché soprattutto a Natale ci sono varie offerte per tutta la settimana sia per l'uomo che per la donna e ok abbiamo detto tutto non potremmo Gigi raccontare tutto quello che trovate qui da Splash perché davvero sarebbe impossibile elencare tutti i prodotti Vito da Debora è una cosa importante c'è anche tanta roba per l'uomo quindi io approfitto vi lascio con Debora visto che mi devo rifare un po' da testa ai piedi vado a fare un po' di shopping della Splash incontriamo adesso un caro amico di Crazy Love Television e di Radio.0 Vito ben ritrovato su Crazy Love Television Buongiorno, buongiorno a tutti ben ritrovato a voi Vito io so che tu sei legato da una profonda amicizia anche con Enzo Splash quindi anche da parte tua un augurio per questi dieci anni di attività direi i primi dieci anni un augurio forte di cuore a Enzo un carissimo amico che veramente dieci anni di attività è sempre in crescita è da ammirare e noi davvero anche noi di Crazy Love Radio.0 facciamo gli auguri a Enzo e ci ritroveremo qui a Pompei da Enzo Splash perché per Natale ci sono tante belle iniziative e tu ne sai qualcosa sì sì, non mancate vi aspettiamo tutti a Natale invialto a modo e noi ringraziamo Vito che ci seguirà ancora su Radio.0 sempre, fedelissimo e chiudiamo questo servizio da Splash Pompei beati tra le donne beati tra le donne sì e quindi invitiamo anche le persone che ci stanno guardando a raggiungere questo punto vendita davvero grandissimo e fornitissimo naturalmente salutiamo tutto lo staff di Enzo Splash qui a Pompei ritorneremo perché dedichiamo questa rubrica all'interno di Crazy Love proprio per darvi dei consigli giusti per spendere bene perché c'è convenienza qualità e poi tutto bene ritorneremo nel periodo natalizio per informare tutti gli studenti che ci guardano di tutte le promozioni e da Enzo Splash ci trasferiamo nella prossima location di Crazy Love Crazy Love Television Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti